Il Barcellona ti entra nella pelle da quando sei piccolo, qui ti fanno crescere come persona. Poi c'è anche il calcio, alla Masia ti insegnano un calcio offensivo, a tenere palla, a non perderla, a fare triangoli e a giocare a testa alta. Nelle parole di Xavi Hernandez, la ricetta del successo della cantera del Barça. Oggi la scuola calcio blaugrana Natal, la Masia, alleva nel centro tecnico del Barcellona 210 ragazzi dai 7 ai 17 anni. Qui si provvede alla formazione dei migliori talenti del mondo, selezionati con rigore e subito impostati in campo col modulo 4-3-3 per arrivare pronti in prima squadra al servizio di Pep Guardiola, che schiera fino a 8 titolari su 11 provenienti dal vivaglio. Un modello riproducibile in Italia? No, a meno che non cambi radicalmente la mentalità dei settori giovanili a partire dagli allenatori. I nostri tecnici fino agli esordienti preferiscono il risultato al gioco, limitando la crescita individuale dei giocatori. Inoltre, nei nostri vivai la priorità resta il rendimento in campo di un ragazzo, che però spesso viene trascurato quanto a educazione e poi si perde prima di arrivare. Il Barcellona forma, fidelizza e mantiene con contratti importanti i giovani che sceglie perché saranno i Messi, Xavi e Piqué del domani. Solo così risparmi e qualità sono assicurati.